Qualche settimana fa Giulia Stabile ha rilasciato un'intervista al settimanale chi ancora frastornata per la vittoria ottenuta ad Amici 20, la ballerina ha fatto una riflessione sul suo percorso nella scuola più famosa d'Italia. Inoltre ha speso delle parole al miele per il suo fidanzato San Giovanni. Grazie a lui la diciottenne ha superato i momenti no del programma. Giulia Stabile nella scuola di Amici 20 ha trovato l'amore e la ballerina ha cominciato a capire di essere attratta da San Giovanni quando provava gelosia nel vederlo parlare con altre ragazze presenti nella casetta. Durante l'intervista la ballerina ha parlato del suo rapporto speciale con San Giovanni. Lui è il primo amore, il primo bacio, lui è il primo di tutto ha chiosato la ballerina. Il cantante di Lady le ricordava le responsabilità degli allievi. Ora da qualche tempo fanno tappa fissa insieme tanto che la mamma di lei in più circostanze ha ribadito che la figlia trascorre sempre più tempo insieme al suo nuovo fidanzato San Giovanni. Stabile ha preso parte anche al videoclip ufficiale Malibu. Se il video vi è piaciuto lasciate un like ed iscrivetevi al nostro canale. Grazie per l'attenzione.